Sempre un piacere. Partiamo dal fatto che voi avete avuto un sacco di fondi nella storia dell'azienda che sono entrati, tutti credo con grande soddisfazione per gli investitori. Come è andato quest'ultimo passaggio? Cosa è successo? Tra l'altro era a cavallo del Covid, dalla prima ondata. Risponderei dicendo che siamo nati sotto una buona stella, visto che esattamente abbiamo fatto il signing a una settimana prima dell'annuncio del lockdown e di fatto poi abbiamo fatto il closing a due settimane dalla fine del lockdown. Quindi la parte forse più interessante è capire che cosa è successo nel mezzo, nel durante di questo, dove forse abbiamo visto altri player iniziare acquisizioni molto coraggiose e poi terminare con qualche litigio. Nel nostro caso devo dire che innanzitutto i player in campo erano due pesi massimi, definirei, quindi Carlyle e Permira. Dall'altra c'è stata anche un'azienda che ha dimostrato di avere dei fondamentali che evidentemente valevano la cifra. Ricordiamo che è un miliardo e... Sì, esattamente, è che di fatto non è stata toccata di un centesimo e anzi, a giudicare da quelli che saranno i numeri che porteremo a casa quest'anno, appunto è un dato dimostrazione di un'azienda solida e di un'azienda che comunque non ci dimentichiamo. Oggi siamo tutti qui a parlare di strategie, di futuro e quant'altro, ma ragazzi io mi ricordo personalmente, parlo da imprenditore, a febbraio, subito dopo lockdown, sinceramente il mio grande problema, e credo quello di tanti altri imprenditori, era quello che non vedevamo nulla. Eravamo semplicemente impauriti. Il governo non c'era. I colleghi ci si sentiva tra tutti quanti noi e nessuno sapeva cosa fare. E in quel momento lì, secondo me, dove è uscito davvero la capacità, che poi alla fine ho pensato essere un po' il fil rouge della nostra conversazione di oggi, che è quello delle persone, persone intese come in azienda e fuori dall'azienda, dove ritrovarti tutto ad un tratto, a dover discutere con un'entità che ha appena accettato di spendere un miliardo e tre e di valutare la tua azienda per un miliardo e tre, dire non consegniamo più, non fatturiamo più. Ecco, in quel momento lì, sinceramente, sono stati momenti molto critici personalmente, perché comunque sono momenti nei quali devi andare l'attuazionista e dire preferisci un fatturato o preferisci un brand. E lì la cosa bella è stata vedere, e mi piace sottolinearlo, come, contrariamente a quello che si pensa normalmente dei fondi di investimento, EBITDA, CAGR, e tutto ciò che sembra di più freddo al mondo c'è, in realtà ho scoperto molto calore e ho scoperto anche una grande capacità di visione, perché dopo il mio, diciamo, sollecito a pensare al brand e non ai fatturati, la risposta non è arrivata dopo un mese o una settimana, ma dopo 20 secondi. Quindi hanno detto fatturiamo, spediamo e andiamo avanti. No, no, hanno detto non fatturiamo, pensiamo al brand, e il brand per noi, in particolare per Golden Goose, almeno per un 50% della nostra comunicazione deriva dalla nostra capacità di generare scarcity. Ah, in quel senso, scusate. Assolutamente, sì. Quindi pur di fronte a una domanda avete mantenuto... Noi abbiamo tagliato immediatamente, ricordo a chi magari non è, diciamo, del settore che a febbraio la maggior parte delle nostre aziende stava chiudendo le proprie campagne vendite. Nel nostro caso avevamo appena chiuso la nostra main collection, vorreva dire circa 36 milioni di fatturato, per un'azienda che comunque aveva chiuso in 2019 a 262 milioni, era comunque una parte importante. In 0,2 secondi la visione mi diceva tagliare tutto, anche perché per un brand che all'80% è estero, il problema al tempo era che l'Italia fosse stata la prima country e quindi gli altri nazioni non avevano ancora questa sensibilità. Ma ricordo le chiacchierate con il nostro direttore commerciale dove giustamente i nostri clienti tedeschi, francesi, americani, dicevano, ma cosa state facendo? Ma no, ma io voglio i miei ordini. Poi in realtà dopo a distanza di qualche settimana ci avevo ringraziato. E quindi dicevi è stata un'azienda resiliente, quindi come si misura i numeri? Questo 2020 come andrà rispetto all'anno scorso? Beh, la fortuna è stata, tornando al discorso della visibilità che poi impatta evidentemente anche sui numeri, è stata di aver avuto una solidità di cassa enorme, nonostante ovviamente fosse un buyout altrettanto importante. Quindi anche qui di nuovo un azionista che non ha fatto troppa leva ma ha lasciato all'azienda la possibilità di poter continuare a gestire la propria cassa in maniera diciamo fluida e se vogliamo ancora in maniera più legata a quel momento. Dall'altra parte questa c'è la possibilità di avere questa visibilità nel gestire quindi gli investimenti, nel gestire le persone che alla fine quest'anno ci porterà ad avere un anno sostanzialmente in pari, quindi a 265 milioni verso i 262 dell'anno scorso ma la cosa che ritengo ancora più bella è che lo chiuderemo con una contribuzione delle vendite a stock pari a zero, quindi con scaffali vuoti e con i nostri clienti che hanno ancora la stessa fame di prodotto che c'era ieri. E che ci porterà un 2021? Che prevedete a questo punto? Ma porta sfiga. Diciamo che sarà molto molto positivo, insomma guardando poi i numeri di Erika di prima diciamo che quest'anno giudicherei la Golden, un'azienda che ha fatto il più 30 tecnicamente e mettiamola così, ci aspettiamo di avere un 2021 in linea con queste crescite. Bene, senti, parlando dei mercati, cioè quello che voi siete, avete detto, vendete l'80% all'estero, quindi quali sono le differenze anche umane di percezione, come si stanno comportando l'Europa, in fondo le tre aree geografiche, dove voi se non ero siete abbastanza equilibrati, Europa, Asia e America. Sì, ma noi normalmente diciamo che abbiamo all'incirca un 37% del nostro fatturato che è America, poi abbiamo all'incirca un altro 33% che è Europa, poi un altro 30% che è Asia. Dell'Asia, diciamo, di Golden, in particolare abbiamo molta Corea, quindi siamo stati molto affected, perché la Corea non è stata esattamente la Cina da quel punto di vista, ma abbiamo avuto anche una Cina che era stata ben settappata pre-Covid e ha, diciamo, dato un sacco di frutti, è andata molto bene, ci ha aiutato tantissimo, come altrettanto è stata anche la nostra fortissima presenza e capilarità e penetrazione nel mercato americano, sia da un punto di vista diretto, sia da un punto di vista department store, ci ha dato la possibilità di riuscire a dare dei numeri incredibili e la cosa ancora più interessante che qui si nomina poco è stata anche la grandissima resilienza dei nostri retailer europei, perché qui non si dice, ma i nostri retailer europei, più o meno la fascia alta lusso, grazie anche all'aiuto di Farfetch, è riuscita comunque a fare dei numeri davvero incredibili, tant'è che noi in sostanza abbiamo già chiuso l'ultima campagna estiva, sostanzialmente addirittura in crescita rispetto ai numeri precedenti di campagna vendita. Quindi i retailer europei che sono stati aiutati tantissimo da Farfetch. Assolutamente sì. Hai un'idea di quanto sia stato l'impatto? Normalmente diciamo che per un brand sano la presenza all'interno dei fatturati di un retailer europeo è in circa di un 30%. E l'America come sta andando? Visto che anche loro sono in piena pandemia, che approccio hanno i consumatori americani rispetto agli europei? Ma diciamo che questa pandemia ha dato un po' il riscontro di quanto sia importante il consumo per i clienti americani. esattamente lo faccio vedere prima la collega sostanzialmente è stato più impattante il BLM o il tema delle elezioni che non il Covid in sostanza. Cioè i grossi drop di fatturato ne abbiamo registrati più per elementi legati alle persone, di nuovo, che non legati necessariamente alla pandemia di cui abbiamo avuto, ripeto, come azienda che ha comunque una filiale e ha comunque quasi 200 dipendenti anche negli Stati Uniti, di un qualcosa vissuto in maniera molto personale e poco di comunità, anche perché la nazione è molto più grande. In Italia abbiamo avuto invece una reazione molto più di comunità e quindi questo ha fatto anche sì che l'atteggiamento verso i consumi fosse molto diverso. Quindi è business as usual in America. So far sì, sì. Parliamo prima dell'e-commerce. Per voi quanto avete avuto anche voi un'accelerazione? Quanto pesa? Tornando un po' a quello che dicevamo prima, quando i fondamentali ci sono, un'azienda ha la capacità di creare valore anche in un momento dove apparentemente sembra difficile farlo. Golden aveva già fatto un setup di business online diretto già tre anni fa. È interno? Assolutamente sì. Da noi è tutto quanto interno, non esiste assolutamente una gestione esterna. Questo va anche da un punto di vista del data crowding, della gestione di tutti quanti i data dei clienti, tutto quanto interno, mentre invece ovviamente la tecnologia viene fatta esternamente. Questo cosa ci ha dato? Ci ha dato la possibilità di riuscire a incrociare ciò che di buono il Covid ci ha portato, abbiamo sentito da Luca, e quello che tendo sempre a ricordare a tutti è che l'online una volta serviva a vendere, oggi serve a molto di più. Perché se è vero che tutti quanti noi siamo cresciuti, mi permetto, in un mondo guidato dalle 4P, in un certo senso, place, price, promotion, product, cavolo, oggi il mondo è cambiato, o meglio ancora, si è evoluto molto di più e in un secondo grazie al Covid. Cioè il nuovo prodotto è il consumatore, il nuovo place sono le community, i nuovi promotion sono le conversations, e il nuovo price è la consideration, quindi ci si spostano dal mondo delle 4P a un mondo delle 4C, che viene promosso dalla più importante, che sono le people, interne ed esterne, anche perché le conversation non è tanto quante ne fai, ma che cosa dici? Che per il consumatore vale tantissimo, si parla di sostenibilità, ho fatto la sneaker, ricicla... Non è così. Questi sono abbagli. È molto più profondo. Perché oggi fare conversazione per come la pensavamo noi analogici era semplicemente dirsi qualcosa. Oggi la conversazione deve portare un'azione. Le nuove generazioni, di cui Golden al 90%, ricordo che è fatta di Millennials e Z-Generation nel suo employment fauna, richiede che ci sia un'azione. Quindi il famoso concetto di call to action è super fondamentale. Quindi il passaggio che il Covid ha imposto alle aziende che già erano in procinto di è stato di passare da un'epoca dove le persone dovevano essere importanti a un'epoca in cui le persone dovevano essere rilevanti, che è molto diverso. Lo devono essere da un punto di vista della call to action dove tutti noi dobbiamo lasciare a questo mondo un posto migliore. E soprattutto tutti noi vogliamo un pezzo di noi in ogni prodotto che compriamo, in ogni cosa che facciamo. Infatti le grandi piattaforme, Luca, Docet o Netflix piuttosto che mille altre, che cosa fanno? Fanno in modo che esattamente lo screen che ti appare in televisione su Netflix sia quello di David, sia quello di Silvio. E nel futuro non basterà avere l'online, servono piattaforme intelligenti che riescono ad adattarsi a un concetto ad persona. Quindi il vostro consumatore potrà farsi la sua... Già lo succede, no? Yes, assolutamente sì. Quindi spingerete molto di più questo aspetto qua, immagino. Precursori anche lì. Anche da un punto di vista fisico, concordo con quello diceva Erika, il fisico ancora più di ieri è super importante. perché se c'è una cosa che by definition non si potrà mai fare digitalmente, come diceva il dottor Capasa, è toccare e provare un'emozione. L'emozione, puoi chiudere deal, puoi comprare, puoi spedire veloce, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi analizzare dati, ma la possibilità di riuscire a co-creare sia da un punto di vista intellettuale che di prodotto, può succedere solo in un contesto fisico, tant'è che noi stessi stiamo reagendo a questo, trasformando i nostri negozi di fatto in una rete di broadcast, tant'è che nascerà la Golden Goose Digital Broadcast, nella quale i negozi stessi diventeranno nei luoghi in cui creare i contenuti assieme ai nostri clienti. Quindi non solo prodotti, ma creerete anche i contenuti. Assolutamente sì. Quindi la vostra risposta è anche accelerare l'apertura dei negozi. Ma in questo momento qua è fondamentale, anche perché li possiamo portare a casa a delle condizioni eccezionali. Quindi mi accennavi che forse raddoppiate a Milano, giusto? Noi raddopperemo a Milano, apriremo a Monte Napoleone, tra l'altro una cosa anche molto speciale per noi che siamo famosi per essere i Branded Location Destination, ma in questo caso proprio perché abbiamo molto da dire, anche da un punto di vista del che cosa fare all'interno di questi negozi. Siamo anche convinti che Monte Napoleone assieme a Sant'Ono Re rimanga diciamo il place to be. Quindi in Monte Napoleone vi troveremo quando si potrà fare un evento, quindi a questo punto, visto che il fisico rimane importante. Però presto. Va bene, senti. Grazie per il tuo contributo. Grazie a te tanto, Davide. e volevo fare un'ultima cosa. Prego, anzi scusa. Volevo ringraziare tutti quanti i miei ragazzi dell'azienda, vi saluto, perché siete stati dei grandi. Grazie. Grazie ancora. Vedi, people contano proprio nel concreto. Grazie ancora. Grazie. Grazie.